Salve a tutti gente, qui Volt Boy 29 è una farfalla! Concentrazione, dovremmo seguire questo tipo che si chiama... Non correre! Rallof! Per portarci solo Dio sa dove, eh? Sì? Tua sorella? Hai una sorella, amico? No, perché? Ok. Chi se ne frega, è tua sorella, non mi stane pure cagando! Dai! Facci la lezione di storia e dici cosa cazzo è questo! Questi sono le stelle guardie, tre delle stelle antiche stelle che trattano la scena di Skyrim. Oh... Oh... Posso? Ok... Ok... Il mago... Il mago... Il... Cornuto... Il... Blink di Legend of Zelda... Posso toccare... O rischio di... Prendere la fottuta scosta che ne so, io scegho il guerriero. Ah, coloro che si trovano a titolare del guerriero prenderanno tutte le abilità di combattimento... No, no... Sono dislessico. Ok, puoi avere una sola benedizione. Ok, sì, una benedizione. Mi benedice il Cornuto. Sì, sono fiero di lui. Ora togliamoci dalle palle... E portami... Nel sacro luogo dove devo portarmi. Devo... Starnutire. Ovviamente ho tagliato la parte dove starnutivo perché ero indecente. Cioè... Sì? Dei figli, no? Dei ribelli. Sì. I ribelli. Guarda i pesci! Come... Come muoiono! Di fronte... Alla potenza... Di questa cascata. Ma mi aspetta pure il coglione. Ok, sì. Non voglio farti perdere tempo. Ti faccio solo un favore. Dove cazzo vai? Pericolo scampato. Pericolo scampato. Era la cazzo di ora. Ok. E torniamo alla mia fischiatina. Fa un culo, non so fischiare. Ma siamo arrivati... Dove siamo giunti. Un drago? Un drago? Chi è il pazzo sadico che predice la venuta di un drago? Chi è? Si faccia avanti. Come detto. Ci stai... Facendo il fottuto gufo del malaugurio. Devo resistere e non decapitarla. Ok, ho salvato. Muori, puttana! Devi morire. Muori. Dove cazzo vai? Hai visto un drago? Non lo vedrai mai più. Capito? L'unica vecchiaccia. Stai ferma! No, che ma... Non mi vedrà più nessuno. Mi... Mi sotterrerò qua sotto. Ah. Ok, mi sono rotto il cazzo. Andiamo a seguire quel coglione. Rallof? Come minchia ti chiamavi? Rallof! No. Che cazzo guardi? Vuoi un po' della mia medicina? Ah. Ah, eccoti fottuto coglione. Dov'è tua... Sorella? Mi stavo affogando con il mio stesso fischio. Devo smetterla di fischiare, ok? Ok, parliamo. Hai delle vettovaglie per me? Sì? Prima dimmi che cazzo sono le vettovaglie, perché io non ho una più fottuta idea. Ah. Una birra. Ho soldi? No, me li regala. A quanto pare. Prendiamo tutto. Valigiamo questa luna da troia. Mmm, formaggio non li voglio. Nel mili tromele. Sì, il fottuto di tromele. Basta. Un drago ha distrutto Elgen. Rallof e io. Siamo fuggiti. Anche se... Sì, in tutto quel fottuto di tromele... Non è proprio il massimo. Sì, ero un drago. Un drago! Un drago! Oh, giuro. No, ti giuro. Visto un drago. Come cazzo era? Non mi ricordo neanche io. Comunque, sì, sì, sì. Bla, bla, bla. Ma come cazzo parli, tra l'altro? Mi ricordo quel piccolo bambino di dove volevano decapitarmi. Oh, sei proprio... Nella stessa... Nella stessa mirina Nella mia ascia. Anche questo cane, è stump. Ah, vi se ne totte. Dove cazzo dobbiamo andare? Sì, mappa del mondo. Vediamo. J. Sì, parliamo... Allo... Jarl. Jarl. È bello dire Jarl, tra l'altro. Già, brutta storia, Enrico. Ho una cazzo di idea. Non devi vedermi nessuno. Devo posseggiarlo. Mi vedono. Mi stanno vedendo. Ora no. Mi stanno vedendo. Che cazzo. Vabbè. Chi sarebbe otte. Prendiamo la chiave di ca... AAAAAH! No! Sono stato colto sul fatto. Ora morirai. Lurid figlio di una minuetta. Capito, Odd? Odd delle mie fottute palle. Non muori, eh. Sei duro. A morire. A morire. Uuuh. Sì. E ora. Sodomizzata anale per mano della tua ascia. Uff. 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 Fine. Vedo che... Uff. Hai soccorso il tuo amico di infanzia. Uff. Uff. blabla bla 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 bla. Granato, stivali. Lasciamolo fottutamente nudo e buttiamolo nel fiume. Dai, Odd. Non essere pesante proprio ora. Devi ritornare in la natura. Polvere. Com'era polvere. Torneremo polvere. Come cazzo era. Ok. Ci vedremo in un'altra vita, Odd. Capito? Ti ricorderemo per quello... Che eri. Cioè... Che cazzo eri? Ah, non mi ricordo. Beh, ciao Odd. In un'altra vita, eh. Ah. È il cerchio della vita, ragazzi. Mi commuovo. Ah. Basta pensare a Odd. Ora è l'ora... Di pensare ai fottuti draghi. E cominciare... Questa avventura. Quindi, andiamo. Bello il cumulo di pietra, è inutile. Lupi. Senti il loro odore. I lupi! I lupi del cazzo. Uh. Che tocco. Ok. In memoria di Odd. Userò le sue vesti. Per combattere. I... I cattivi. Quello... Quello... Quello che dovrei combattere. Ok. Vediamo. Ok. Il vecchio Alfred... Ridera dall'assù. Pensando... Come la sorte è stata cattiva con lui. Ah, eccola qua. White run. White rune. White rune. Wither rune. Come cazzo la volete chiamare? Zompettiamo, zompettiamo, zompettiamo. Fanculo. È bello notare come gli alberi... Non si possono minimamente scalfire. Un gigante! Uh. Sarà la mia prima preda. Cioè la mia... Seconda? No, no. Beh. Quarta preda. Da quando... Sono uscito da quella topaia. Ok. Salviamo. Per evitare troiate. All'attacco! Ma... Gigante delle mie cose. È già morto. Sì, il fratello dello scudo. Ma che cazzo è un fratello di scudo? No. Sì, sì. Posso unirmi a poi? No. Non mi unirò mai a poi, capito? Oppure no. Dovrò decidere. Intanto prendiamo la clava. Non si può prendere la sua clava. Ma non posso neanche muoverlo. È la sua... Stazza. Vabbè, chi se ne frega di lui? Continuiamo il nostro viaggio. Tentazione. No. Mi secco. Sì, un passaggio. Vuoi un passaggio, amico? O vuoi che sia io... Affritto un passaggio. Sì, i febri. Però io ti affiro un passaggio. Con solo arrivo. Dritto all'inferno! Oh, che taglia. Non voglio tagliare io. Muori! Bjorn! Muori! Devi morire. Tomp! Tomp! Lo ricorderemo con un bravo... Cocchiere. Sì. Si chiamano cocchieri. No? Non c'è un fiume. O c'è? Andiamo contro... No, non c'è nessun fiume. Quindi mi dispiace, non posso lasciarti però in strada. Sarebbe contraria alla mia etica. Quindi ti lascerò sopra il tuo cavallo. Il tuo fido. Il tuo fido però... È... È trasparente. E non è solido il tuo fido. Quindi... Stai qua. Prima o poi tornerò, capito? Per trovarti una... Confortevole casa. Ma ora non c'è tempo. Ora... Ok. Cazzo... Amico... Ti eri accorto che ti stavo prendendo e sfondato tutto il cranio? E dammi quella... Quella tazzona di birra. Che è vottutamente fratico. No, non voglio entrare qua. Voglio andarmene. Penso che... Penso che... E ne andrò. Non prima... Però... Avanzamento di livello. Questo. Mentale salute. Ovvio. Credo che farò... No. Armi a una mano. Sì. Uomo d'arma. E con ciò... Ci vediamo alla prossima parte. Cazzo. Non posso lanciarli. Quindi non posso... Finire... Questa parte in modo epico. Tranne... Fottendogli tutto. Sì. Davanti alle sue fottute occhi. Non esistono le occhie. Ma che cazzo! Eh? Che cazzo! Sì! Vai donna! Vai donna! Vai donna! Vai donna! Ma che cazzo! Dai continua! Vincidi quei figli di puttà! Oh cazzo! Ma... Ma perché non muoiono? Ah! Mi sto rompendo le palle! Ok mi arrendo! Portatemi alla pottuta prigione! Oppure... No! Vabbè mi arrendo! Nelle segrete! Eh? Sì sì! Ok! Ci vediamo nella prossima parte!